Giulia, ti vuoi muovere a portare questa scatola? Giulia, giù! Ma che ti pareva? Non è questa la scatola, la scatola invisibile! Ah, ora ho capito, ora mi imbatto il d'occhio, farò sparire questa scatola! 3, 2, 1, GO! Buon torno! Ragazzi e ragazzi, oggi siamo ritornate qui con un nuovissimo video! Questo video si tratta di un video, che video? Un video? Di challenge! Esatto, un video challenge! Perché ha spopolato su Musical.ly, ha spopolato su YouTube e ora sta arrivando anche qui su YouTube in Italia Ed è stato un richiestissimo da voi, ovvero è... L'Invisible Box Challenge! È veramente molto bello, anche se io e Giulia non siamo tanto capaci, però ce la caperemo! Cutie Stinks! Scherzo! Vabbè, così a caso! Partiamo! Comunque, allora, le regole sono che praticamente c'è un invisibile scatolo e poi fate vinta di prenderlo! Lo poggiate a terra e poi è come uno stacolo che poi dovete saltare! Esatto! Tipo così, guardate! Appoggiamo, tocchiamo e poi si deve serpassare! Ci ho fatto io! Beh, questo quindi... 3, 2, 1, GO! Vai! Giulia, ti vuoi muovere a portare questa scatola? Giulia! Giù! Beh, ti pareva! Non è questa la scatola! La scatola invisibile! Ah! Ora ho capito! Ora gli imbatto ed occhio farò sparire questa scatola! Ora andrò a prendere la scatola invisibile! Uh! Fermo, cara. Devi fare qualche altro zanno? No, non, la vado a prendere io! Si sapeva! La solita questa è perfettina! Giulia è pesante Non so se me lo faccio già a me Aiuto è pesantissima Aiutami Vedi questa è la scatola Invisibile Eccoci qui Vabbè dai Che è incominciato Tu Io aspetta Io sto passato Ti guaterò Sta qua No sta là tu Sta qua 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 sta Ti ho fatta No perché non ti è salita sulla scatola Ti salirò Ci provo io Questa è la scatola Chi fa? Ti ho Ti ho Scatola Oh ma sta la scatola No non ci riesco Come on non è giusto Facciamo provare Babbo Si arriviamo a 4000 like Ti proviamo Riprovate Io 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 Scatola Non la vedo Fa un po' il segno di questa scatola No Troppo Hai schiacciato la scatola Vediamo Giulia se ci riesce Vuoi vedere l'altra Si è schiacciata questa Giulia prendila tu dai No No Invisibile Vuoi essere quella vera No Ecco Ancora Io Butta la terra Non l'ho vista Riprendila Vuoi vedere Io mi voglio Scegliare un attimo Guarda Guarda La faccio io Quanto io Bella Aspetta Mi pensate Quando c'è una scatola Un po' più Non invisibile Io faccio così Allora Arrivare al divano Faccio sopra Poi faccio così E l'altro Facciamo una cosa La prendiamo Non gioca un po' all'aperto Prenditela Però sempre io La devo prendere In due Prendete il te due Dai prendete il te due Vieni Sono bella Vieni Sono bella Muoviti Vieni Dai perché sono tutto bello Fai Ti vediamo dopo Ciao Ragazzi Abbiamo fatto un po' di Invisible Box Sopra Ma abbiamo fatto Tipo rumorissimo Quindi siamo scese E ora facciamo Questa Invisible Box Giulia vado a prendere La scatola No aspetta Ci riuscirò adesso Qua c'è la scatola E? Qua E? Qua 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 Andiamo Mia Gio! Giulia, mi sono veramente stufata di questa scatola! Ah, basta! Non ci riesco e mi sono stufata! Cosa ne possiamo fare di questa scatola brutta? Distruggiamola! Ok ragazzi, Giulia schiaccia il 5! Quindi ragazzi, questo è il video! Spero vi sia piaciuto! Ah, ne è piaciuto tantissimo! Iscrivetevi a Instagram, marghegiulia.caoi. Retirapasto official, su marghegiulia.caoi.real sul secondo canale, marghe.tv su musical.chiaccia la marghegiulia.real e se volete prendere le maglie, le cover o le tazze andate su www.marghegiulia.caoi.it e tante altre cose di tante cose quindi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale e fate arrivare a questo video a 4.000 like se volete la sfida Noi contro Babbo e se non vi è piaciuto Ssssshhhhhhhhhh